Un sistema distorto nel quale i controlli sono insufficienti e non mancano i problemi. Dagli appalti affidati senza gara al rapporto tra regione e centri privati. La sanità finisce nel mirino della Corte dei Conti. La procura contabile ha fatto sapere che grazie ai controlli è stato scongiurato un danno erariale da 40 milioni di euro. Il presidente della Corte, Michele Oricchio, ha anche affrontato i problemi della pubblica amministrazione e della gestione dei fondi pubblici. La sezione ha emissuto nello scorso anno oltre mille sendenze. Nella materia della responsabilità amministrativa abbiamo preso in considerazione tanti casi di cattiva gestione di danaro pubblico ma abbiamo anche constatato tanti sforzi da parte di amministratori e funzionari pubblici che cercano quotidianamente di operare per migliorare l'assetto della nostra amministrazione e i servizi che offriamo i cittadini. E noi questo ci rende particolarmente felici e soddisfatti. Tra gli amministratori è diffusa la paura della firma per il rischio di incorrere in procedimenti giudiziari, ha aggiunto Oricchio. La guida dei magistrati contabili ha anche criticato la riforma dell'autonomia differenziata, un'operazione di ingegneria istituzionale che equivale ad una condanna per molte zone, la riflessione del magistrato. Ma è sulla sanità che si accende il dibattito. Per De Luca il governo deve risolvere i due problemi principali, vale a dire la carenza di personale e l'assenza di risorse adeguate. Senza un intervento deciso rischiamo di chiudere il pronto soccorso il monito di De Luca. Durissimo invece il commento dell'opposizione con la Lega che ha aspramente criticato quella che ha definito la mala gestione deluchiana.